Siamo qui con Battaglia, giocatore dell'Epomeo, giocatore di una tripletta. Vittoria importante dell'Epomeo, 7-2. Che partita hai visto sia tu e anche da parte dei tuoi compagni? Io ho visto una partita molto... eravamo molto concentrati già dall'inizio. Siamo una squadra, come avete visto, che all'inizio del campionato siamo andati un po' a rilento, però vedo che siamo riusciti ad avere la nostra quadra e stiamo dando tutte le partite sempre il massimo, come si è visto anche oggi. Il primo tempo l'abbiamo fatto, un ottimo primo tempo e spero che continuiamo sempre così perché siamo un gruppo solido, forte e compatto, quindi penso che sicuramente faremo degli ottimi risultati. Un primo tempo e anche un secondo ad altissimo livello, potremmo definire un Epomeo quasi perfetto oggi? Ma perfetto mai, perché quando si prende gol non sei mai perfetto. Penso che qualche lacuna c'è ancora, però si può migliorare, però come intensità e come aggressività ci siamo. Prima vittoria del 2023, una vittoria che dà tante speranze, tante certezze, importante anche per il rientro del campionato. Importantissimo, importantissimo, perché questa era una partita di recupero dove a noi comunque servivano per forza tre punti e li abbiamo ottenuti. Ora dobbiamo andare avanti così, puntare sempre a fare il risultato perché comunque il nostro è un campionato di vertice e noi tutti vogliamo regalare all'Epomeo quello che merita perché è una società che è sempre presente per tutti i ragazzi che ci sono e non ci fanno mancare nulla, quindi è giusto che ognuno di noi dà il massimo in ogni partita che facciamo per ricambiare il loro contributo. Grazie mille.